Vibonese vs Reggio Calabria non è una partita decisiva, ma è come se lo fosse. L'UE per la Vibonese di Gaetano Di Maria, pronta a calare il poker di successi consecutivi dopo aver buttato sul tavolo un trisse di vittorie che ha stravolto il campionato rosso-blu. L'UE per la Regina, che invece nelle stesse partite ha sgretolato il vantaggio accumulato sulle inseguitrici. Vibonese in primis, a Luigi Razza, sarà scontro play-off, con un occhio avanti ed un occhio indietro. Un eventuale pareggio potrebbe favorire infatti la Versa Normanna impegnato sul campo della Vigor Lamezia. È la prima volta che la maggiore formazione di Reggio sbarcha in provincia di Vibo per una gara ufficiale. Non il primo confronto assoluto tra le due squadre già affrontatesi in diversi amichevoli è soprattutto nel match d'andata, quando al granillo si impossero gli Amaranto con un rigore contestatissimo trasformato d'arena, che lasciò il rosso-blu in svantaggio e con un uomo in meno. Ci sarà anche questo nei pensieri dei 22 in campo. Due domeniche fa, la Vibonese ha spezzato l'incantesimo casalingo ritrovando il successo dopo tre mesi. La regina proverà a fare lo stesso in trasferta, dove non vince, da oltre 70 giorni. A fare da contorno il pubblico delle grandi occasioni. Non ci sarà carrozza tra gli ospiti, nessun assente tra il rosso-blu. Alessio Bonpasso per la CNews24